Ciao a tutti ragazzi, oggi video wrap up con gli ultimi libri letti a giugno, quindi sono altri cinque libri. E' rimasto fuori i Budenbrook di Thomas Mann, ne parleremo ovviamente nel prossimo video wrap up. Per il momento ci accontentiamo di questi, che sono pochi, ma sono succosi, quindi c'è molto da discutere, molto da dire. A cominciare dal primo titolo, che è Un recupero che ho fatto di recente. E' uscita qualche mese fa l'edizione tascabile di questo romanzo, forse Esther, che ha vinto mi pare nel 2015 il premio strego europeo. Katia Petroskaya è una scrittrice di origini ebraiche nata a Kiev. Nella edizione fabula, questo libro ha la copertina con una serie di fotogrammi dal film russo, muto. L'uomo con la macchina da presa di Zigavertov. Zigavertov è stato, oltre che un regista che ha dato maggior spicco insieme a Eisenstein al realismo russo, è stato anche il teorico del realismo. Secondo Zigavertov, la realtà che andava a catturare la macchina da presa doveva essere una realtà tangibile e quindi non fatta di pose, di ruoli. E secondo me quel tipo di copertina, anche perché alterna alcuni fotogrammi del film di Zigavertov a dei primi piani dell'occhio, rispecchia moltissimo l'intento di questo romanzo, sia dal punto di vista narrativo che dal punto di vista della struttura, dello stile narrativo. Perché forse Esther è la necessità di andare a scoprire un passato familiare e ricostruire un albero genealogico della famiglia dell'autrice. Quindi è un libro dal forte valore autobiografico, in cui la ricerca delle origini diventa poi la tematica, il punto centrale di questo romanzo. Vi dicevo che questo romanzo, la copertina con i fotogrammi dell'uomo con la macchina da presa di Zigavertov, è molto coerente con l'intento di andare a ricercare la verità, andarla a ricercare e andarla a documentare. Qui non abbiamo soltanto la ricostruzione di quello che fu l'albero genealogico della Petroskaya, ma abbiamo anche la testimonianza del modo in cui la Petroskaya è riuscita a risalire alle sue origini. Dall'altra parte, questa copertina con questa serie di occhi che si alternano è anche il modo di raccontare che ha l'autrice all'interno di questo romanzo. Questo guardarsi intorno, utilizzare delle fonti anche non canoniche per andare a ricostruire una realtà. Quello che ci viene restituito è una storia frammentaria, non c'è un'unità narrativa, anche se poi parlare di unità narrativa non presente non è corretto, perché poi il racconto risulta scorrevole, nonostante poi sia diviso in macro capitoli e ogni capitolo poi ha il titolo della persona a cui Petroskaya sta ridando voce attraverso la sua testimonianza. Quindi abbiamo un racconto frammentario in cui delle volte anche quello che viene ricostruito non è detto che sia realmente successo. Vengono utilizzate anche delle fonti come Google. Ci sono persone che telefonano dopo 60 anni e dopo 60 anni si riesce a ricostruire una storia che mancava da tanto tempo. Infatti questo forse nel titolo, forse Esther, è proprio la testimonianza ironica soprattutto dell'indeterminatezza delle fonti, di quello che poi si va a ricostruire. Ed è proprio questa indeterminatezza delle fonti che fa sì che questo sia un racconto intimo, personale, che riguarda esclusivamente la famiglia di Petroskaya, però allo stesso tempo possa essere aderente ad una ricostruzione ipotetica di una collettività. È possibile che quello che viene narrato dalla Petroskaya poi sia aderente con altre storie, con altre famiglie che hanno vissuto in quegli anni. Vi voglio segnalare anche le pagine in cui lei parla di Baby Jar, sono veramente molto toccanti perché lei ritorna a Baby Jar ultimamente e è colpita dalle persone che si muovono all'interno di quel luogo incuranti di quello che è avvenuto, della tragedia che è avvenuta negli anni passati. Ad esempio ci sono persone che fanno joking e un'altra cosa che colpisce la Petroskaya è il fatto che a Baby Jar tutt'oggi non ci sia un memoriale ritenuto tale, non c'è stato per anni il culto del ricordo di Baby Jar, soprattutto perché la politica antesimita di Stalin non ha mai abbracciato la volontà di ricordare. Petroskaya questo lo dice molto bene e le pagine in cui parla di Baby Jar sono le pagine che mi hanno ricordato tantissimo le benevole di Jonathan Littell perché alcuni passaggi sembrano molto simili e questo non fa altro poi che rafforzare il fatto che se è vero che ci troviamo di fronte ad una ricostruzione di una singola famiglia, quello che noi poi andiamo a leggere è un qualcosa che è stato vissuto nell'intimo da un'intera collettività e quindi è diventato un ricordo comune e come tale sarebbe il caso di andarlo a ricordare, di andarlo a celebrare. Inoltre Forza Esther è stato citato da Pietro Citati, scusate il gioco di parole, e lui l'ha affiancato ad Austerlitz di Sepad e ai quaderni di Simone Bale. Io trovo che questa associazione sia molto veritiera perché in questi tre romanzi la Shoah non viene vista come un qualcosa di chiuso, un avvenimento che non potrà ripetersi e quindi lo chiudiamo, ma dobbiamo ricordarlo, dobbiamo perpetrarlo al tempo, non dobbiamo dimenticarlo. In questi libri non c'è la voglia di non dimenticare, in questi libri c'è la voglia di ricercare, infatti è importantissimo il tema della ricerca. Non si tratta soltanto di non dimenticare in questo caso, in questo caso si tratta di andare a ricercare in tutti e tre i libri delle origini, un qualcosa che per anni è stato cancellato, è stato negato, e soltanto andarlo a recuperare, a ricercare può essere non dimenticato. E questo secondo me è la potenza di questi libri, di questo, di Austerlitz, dei quaderni, è quello che li rende effettivamente perpetrabili nel tempo. Quindi il centrale è il tema della ricerca. La storia che ne viene fuori è una storia frammentare, ho parlato prima di un'unità di capitoli con a titolo i nomi dei diversi personaggi che poi vanno a incasellarsi nell'albero genealogico della Petrovskaya. Però il racconto frammentario che ne viene fuori è un racconto che, se è vero, è una testimonianza fortissima della Shoah, ma può anche trovare una direzione esterna rispetto alla Shoah e non si esaurisce soltanto in quella tematica. Perché quello che viene narrato qui è aderente con la politica dell'Europa, non soltanto della Seconda Guerra Mondiale, ma di tutto quello che è successo dopo. E quindi è veramente riduttivo renderlo soltanto un libro a testimonianza della Shoah. Non andiamo così peso a questo libro, andandolo soltanto a circoscrivere al tema della Shoah. Dietro a Forza Esther, dietro al libro di Sebald di Simone Weil, c'è anche la voglia di andare a ricercare qualcosa che per troppi anni è stato negato e che soltanto attraverso questi testi può essere salvato dall'oblio, perché è sempre stato destinato all'oblio. E quindi soltanto scrivendone possiamo evitare di dimenticarlo. Io questo ve lo consiglio veramente tanto. Adesso che è uscito in Tascabile lo potete prendere, poi c'è la promo anche ad Elfie, ve lo butto lì, lo potete mettere nella tote bag con molto soddisfazione anche. Parlando invece di una nuova uscita, vi voglio parlare delle Sette Lune di Mali Almeida, questo scrittore dello Sri Lanka che poi una volta che ho terminato il libro ho scoperto essere anche uno sceneggiatore cinematografico televisivo, non ricordo bene. Questo è un punto focale di questo libro. È un libro dalla trama assurda che mi aveva catturato fin dall'inizio. Perché? Perché abbiamo questo fotografo di guerra, un giocatore d'azzardo incallito e anche un omosessuale in un periodo in cui nello Sri Lanka era meglio non essere omosessuale, ma era meglio non essere forse, che si ritrova alle prese con la burocrazia della morte. Lui si ritrova morto, non si sa chi l'abbia ucciso. Ha davanti a sé Sette Lune per cercare di indirizzare qualcuno verso un oggetto. All'interno di quell'oggetto ci sono delle fotografie che potrebbero compromettere a livello politico il futuro dello Sri Lanka. Ovviamente all'interno di queste Sette Lune lui dovrà anche togliersi il suo occhiato fisso su chi possa averlo ucciso. Quindi siamo di fronte ad una trama che ha al suo interno due segreti da andare a scoprire, ma ce ne sono tantissimi. Abbiamo una trama sulla carta molto accattivante, purtroppo la resa non è stata altrettanto accattivante, perché vi ho detto che l'autore è uno sceneggiatore. E questa cifra della scrittura per la produzione audiovisiva è molto forte in questo romanzo. È un romanzo che ha una quantità di dialoghi altissima, ma quello non è il problema. Il problema è che più volte mi è sembrato di leggere un copione cinematografico. Mi è sembrato che i dialoghi non fossero esauriti soltanto con la lettura, ma che avessero bisogno del supporto di alcune immagini per poter essere compresi. E questo è avvenuto soprattutto in quei dialoghi che avevano un senso ironico-umoristico. Infatti ce ne sono molti di battute. Il problema è che quelle battute delle volte venivano spiegate da un discorso indiretto e quindi mi ritrovavo a dover rileggere il dialogo per capirlo. Quindi non veniva capito alla prima lettura. E questo ovviamente potrebbe essere anche un limite mio, il fatto di non capire tutto alla prima lettura. Però mi è più volte apparsa la sensazione di star leggendo una sceneggiatura cinematografica. Anche perché il discorso indiretto è molto poco, non ci sono grandi descrizioni, non c'è introspezione. Il discorso indiretto è il più delle volte a supporto di questi dialoghi. Un'altra cosa, è scritto in seconda persona. La seconda persona secondo me è la scelta più giusta per questo libro perché prima cosa coinvolge subito il lettore all'interno di questo ufficio di burocrazia della morte. Una situazione paradossale a tratti kafkiana che ha bisogno della seconda lettura per capovolgere subito, catapultare subito il lettore all'interno di una scena. Dall'altra la seconda persona allontana il testo scritto da un'ipotetica sceneggiatura. E quindi secondo me è la cosa che salva questo libro che è stata una lettura piacevole però con tutti i limiti stilistici che ho incontrato durante la lettura. L'ho ritrovata una lettura piacevole dalla trama accattivante, ci sono tutti gli ingredienti affinché possa apparire un libro piacevole, ci sono vari apporti da diversi generi letterari. Un altro grande pregio di questo libro inoltre è che mi ha spinto a documentarmi su un passato, quello dello Sri Lanka, che a livello politico conoscevo molto poco. Comunque spesso viene paragonato questo libro a Salman Rushdie. Purtroppo la scrittura di Salman Rushdie io continuo a preferirla e a ritenerla molto più alta a livello letterario. Qui la scrittura non è la stessa cosa e ve lo consiglio nel caso in cui volete una lettura piacevole, leggera, che possa farvi passare qualche giorno in piacevole compagnia di questi personaggi che sono molto fuori dalle righe. Però se cercate un libro dai tratti anche di realismo magico con una scrittura più letteraria, io vi consiglio Salman Rushdie. Poi vi vorrei parlare di Dolores Claiborne di Stephen King. Mi sono avvicinata a Dolores Claiborne dopo aver letto i due libri, La Combo, che ho letto questa primavera di Shirley Jackson. Sì, abbiamo sempre vissuto nel castello e l'incubo di Laos. Dolores Claiborne fa parte della trilogia femminista di Stephen King insieme al gioco di Gerald e l'altro che non mi ricordo come si chiama, vabbè ve lo metto qua in sovraimpressione. Poi tra le altre cose di Stephen King è uscito in questi giorni un libro che mi interessa molto, lo sto appuntando, di Briasco. E ho visto su internet una presentazione che Briasco ha fatto in una libreria qui a Roma sulla Tiburtina. E Briasco diceva io non capisco chi dice che Stephen King è misogino. E infatti questa cosa nemmeno io la capisco, ma io non la capisco nemmeno su Roth, chi dice che Roth sia misogino. Però va bene. Questa è la trilogia femminista di Stephen King, un libro dal fault realismo. Dolores Claiborne è una donna plasmata, è una donna molti sfaccettata. Leggendo questo libro noi abbiamo subito l'essenza di questa donna, una donna che va subito al punto, perché prima di tutto è un monologo. Siamo all'interno di una centrale di polizia, Dolores sta di fronte a due detective e deve ricostruire un fatto, un omicidio che sembra che lei abbia commesso e attraverso la sua deposizione lei andrà poi a riscoprire il suo passato. Importante, come nel gioco di Gerard, qui è la figura dell'eclissi lunare. Ha un forte valore simbolico e come in tanti altri libri di Stephen King, questo valore simbolico è accentuato ed è poi il fulcro di questo libro. Mi è piaciuto, sì, anche se avrei preferito che non ci fossimo soltanto basati sulla voce di Dolores. Magari intervallando questa voce di Dolores con anche un qualcosa narrato in terza persona, magari da un narratore onnisciente, capace di poter donare alle figure maschili di questo libro una verticalità, una plasticità più profonda perché secondo me è un po' il limite. Se da una parte abbiamo questa figura femminile forte, questa donna nel pieno della sua rabbia, nel pieno del suo dover per forza essere risoluta, dover tenere la sua vita nelle redini perché ha dei figli da mantenere, dall'altra le figure maschili sono un po' deboli e passano attraverso l'ottica di Dolores, un'ottica che è ovviamente non fedele al racconto e quindi quello che ci viene restituito è un personaggio, una serie di personaggi maschili deformati. Ovviamente quello che io reputo come un limite e lo sottolineo per altri, per tanti altri, risulta poi un punto di forza di questo romanzo, quindi questo è soltanto un puro mio gusto personale, avrei preferito magari dei cambi di registro per rendere il tutto più a 360 gradi nella narrazione. Rimane Stephen King uno scrittore d'alto livello, io voglio leggere il libro di Briasco, tutto qui. Altro libro che ho letto a giugno La notte dell'oracolo di Paul Oster. Sono voluta ritornare a leggere Paul Oster a seguito poi delle notizie sul suo stato di salute. Attualmente non sta bene, è ricoverato in una clinica, anche se poi le notizie che ci arrivano sono anche molto frammentarie, anche in questo caso, come su Forse Esther. Volevo però ritornare a leggere Paul Oster, soprattutto perché dopo che sono venuta a conoscenza della notizia che lui non stava bene, ho rivisto e ho riletto alcuni passi di Diario d'Inverno e mi è mancata un po' la voce di Paul Oster. Quindi ho preso uno dei tanti romanzi non letti di Paul Oster che ho in libreria, della Notte dell'oracolo. Ci tengo a sottolineare che La Notte dell'oracolo è un fuoricatalogo, però, e ho fatto anche la rima, però su internet trovate sicuramente qualche copia usata. Comunque La Notte dell'oracolo è un romanzo nel romanzo, fortissimo il valore meta-letterario, perché parliamo di questo personaggio principale, Sidney, che un giorno entra in una cartoleria, uno scrittore, compra un taccuino blu e inizia a scrivere dopo un blocco dello scrittore dovuto a delle vicessitudini. Quello che poi lui scrive all'interno di questo romanzo, di questo taccuino, trova un rispecchiamento poi in alcuni fatti che capitano a lui o a persone a lui vicine. Non vi direi di più della trama, perché nella Notte dell'oracolo la trama è principale, perché abbiamo una serie di bolle narrative, di storie che si vanno a intersecare. E infatti, secondo me, la grande forza di questo romanzo non è tanto quello che Paul Osser ci va a raccontare, quindi la storia, come va a finire, chi ha ucciso chi, anche se poi non muore nessuno. Però, veramente, quello che è davvero importante in questo romanzo è come poi le diverse storie si vanno ad intrecciare, seppur poi ci sia un portante, un filone portante dato poi da questo taccuino blu. Quindi è importantissimo anche il valore simbolico degli elementi narrativi che Paul Osser ci vuole narrare. Quindi siamo di fronte alla tradizione osteriana per eccellenza, quello che avviene attraverso la casualità, come facciamo ad andare incontro all'imprevedibilità della nostra vita, verso quello a cui siamo destinati, se è possibile sfuggire a questa casualità. Sono tutte tematiche che Paul Osser ha più volte in tanti altri romanzi interpretato, affrontato. Per esempio, mi vengono in mente la musica del caos che secondo me per questa tematica è una delle più testimonianze più significative. mi viene in mente anche Invisibile, Invisibile è un altro grandissimo romanzo di Paul Osser. Lì c'è anche una storia d'amore molto forte. Nella notte dell'oracolo ho trovato qualche pecca narrativa, perché se è vero che ci sono tutte queste storie, queste bolle narrative che si vanno ad incastrare, è vero anche che questi incastri delle volte risultano un po' meccanici, ossia e forse questo è dovuto al fatto che forse sto leggendo, ho letto troppi libri di Paul Osser sulla stessa tematica, ma che questi meccanismi di intrecciare storie apparentemente diverse per andare poi a comprovare una casualità della vita, dell'esistenza umana, sembra un terreno già percorso da Paul Osser, un qualcosa che io ho già letto, cambiano soltanto i personaggi principali. Sicuramente è un mio limite, perché vengo da altre letture di Paul Osser e quindi ho trovato nella notte dell'oracolo una sorta di ripetitività nelle tematiche. Vi continuo a veramente consigliare la musica del caso è invisibile, come dei romanzi molto più forti rispetto alla notte dell'oracolo, dove rispetto agli altri due però l'aspetto metalletterario è molto più forte, perché siamo di fronte poi ad un personaggio principale che va proprio a scrivere il destino che poi da lì in poi andrà a rivivere, andrà a vivere e non a caso una delle più importanti frasi del libro non è altro che forse scrivere proprio questo Sid, non registrare i fatti del passato ma far succedere le cose nel futuro e questo letto anche nell'ottica di quello che sta poi affrontando Paul Osser nella vita reale ha qualcosa di inquietante e anche affascinante, quindi ve lo consiglio sicuramente anche se se proprio vi devo consigliare dei libri che trattano questa tematica di Paul Osser io vi consiglierei A Occhi Chiuse purtroppo anche la musica del caso però purtroppo è fuori catalogo però alcune copie online si trovano ma vi consiglio anche Invisibile quindi questo è stato il mio ritorno a Paul Osser a leggere Paul Osser anche se ho tanti altri libri ancora che mi attendono di questo scrittore statunitense che nonostante tutto continua sempre a piacermi parliamo invece di Riaffiorano le terre inabissate di John Harrison è un scrittore inglese che a 40 e 50 anni e rotti non so quanto abbia ha scritto finalmente il libro della vita viene presentato così Riaffiorano le terre inabissate è una sorta di distopico sull'apocalisse imminente che va a rispecchiare moltissimo la nostra contemporaneità la nostra assenza di direzione il nostro farci scivolare avvenimenti molto importanti addosso come se fosse l'acqua fresca senza andare poi ad affrontarli nello specifico comunque Riaffiorano le terre inabissate è un romanzo che viene visto a specchio sono due personaggi principali abbiamo Shaw che è un uomo di 50 anni che accetta qualsiasi tipo di lavoro non ha delle ambizioni ma ha un passato che non ha giusto che non gli ha dato le giuste soddisfazioni dall'altra parte invece abbiamo Vittoria che abbandona Londra poi per trasferirsi nella campagna questi due personaggi non fanno altro poi che caratterizzare tutta l'atmosfera del libro il libro è un romanzo che è imperniato di un'attesa perenne la parte inquietante di questo libro è appunto questa assenza di qualcosa di definitivo si ha sempre l'impressione che qualcosa di terribile stia per avvenire e poi non avviene assolutamente nulla e questo non è un lato negativo assolutamente dei libri in cui non avviene assolutamente nulla però la cifra inquietante di questo libro è appunto questa attesa che il peggio è dietro l'angolo e i protagonisti non sono coscienti del peggio dietro l'angolo ma lo sfidano continuamente in una sorta di incoscienza anche spudorata infatti c'è infatti c'è una sorta di provvisorietà nelle vite di questi personaggi che vivono degli avvenimenti tragici o quantomeno anche molto strani come per esempio vedere alcuni feti all'interno di pozzanghere in mezzo alla strada come degli avvenimenti totalmente normali senza chiedersi che cosa sta succedendo verso dove stiamo andando qual è la nostra direzione e ovviamente queste sono tutte domande che ci poniamo continuamente nella nostra quotidianità per esempio riferito al sul riscaldamento globale infatti i due personaggi principali non sono altro poi che uno specchio un riflesso della nostra contemporaneità loro non riescono ad andare nel profondo anche di piccoli avvenimenti inquietanti che incontrano sulla loro strada non hanno davvero la coscienza di quello che stanno vivendo non danno il giusto peso a quello che la vita gli sta comunicando sotto forma poi di simboli di avvenimenti inquietanti questa loro assenza di presa di posizioni un'assenza anche di analisi verso la quotidianità è anche una cifra stilistica del libro quello che avviene all'interno di questo romanzo non è analizzato né da una voce narrante e nemmeno dai suoi personaggi è il lettore il destinatario di questa analisi è il lettore che si deve fare le domande che i protagonisti non si fanno e è il lettore che poi viene sfidato in una sorta di interpretazione a partire poi da questo senso di inquietudine di irrisolutezza che pernia tutto il romanzo inoltre i due personaggi principali sono due personaggi confusi senza una direzione un futuro verso cui dirigersi non hanno delle aspettative non hanno delle ambizioni ma vivono la loro solitudine ricercata e trovano un punto di contatto soltanto tra di loro sono quindi un grandissimo riflesso di questa contemporaneità mi è piaciuto molto questo libro anche se a livello di scrittura non è il mio e questo ci tengo a dirlo non è una scrittura che incontra particolarmente il mio gusto personale anche se l'ho trovato un bel libro capace di dare un messaggio su questa nostra contemporaneità forte e con la giusta anche originalità quindi ve lo consiglio se lo doveste trovare usato cosa che io ho fatto sul libraccio quindi non è così difficile trovarlo anche perché essendo edito atlantide ancora in questa collana e non quella blu che è quella leggermente più economica il prezzo nuovo è abbastanza alto quindi eventualmente recuperatelo ad un'eventuale occasione di libri usati nel caso in cui ce l'avete e niente ragazzi questo era il mio wrap up delle letture di giugno vi lascio giù sotto la seconda parte delle letture con altri 5 o 6 libri che ho letto a giugno comunque ci tengo a dirvi che da ora in paio i wrap up non avranno più la cadenza mensile quindi non farò più i wrap up cosa ho letto a luglio assolutamente no appena leggo 5 o 6 libri vi troverete il mio wrap up piazzato qui sul canale a mo' di minaccia quindi io sono di parola su questo se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale o mettete un like se avete letto qualcuno di questi libri oppure volete comunicare con me scrivete giù sotto nei commenti io vi saluto e vi ringrazio e vi auguro buone letture ciao 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 Grazie a tutti